E' con noi ospite Luciano Barbera, grazie di essere con noi, ma lei anche politicamente in questi anni, in questi ultimi anni soprattutto, ha cercato di battere veramente, di suonare i campanelli, di fare aprire le porte a 360 gradi dal mondo dell'economia, al mondo della politica, per il made in Italy, cercando ovviamente a 360 gradi dall'Europa all'Italia, è una una... Ieri, quando io ho saputo che il governo è caduto, non le nascondo che pur avendo votato per questa parte politica, ho tirato un sospiro di sollievo, anche se ho provato una grande delusione, perché in tanti anni questa gente che ha promesso il bene dell'Italia non ha mai capito che una parte del bene dell'Italia importantissima avrebbe potuto derivare dalla valorizzazione del prodotto italiano, perché il prodotto italiano ha comunque un'anima, che non può essere ripetuta, quest'anima, da coloro che hanno esportato le loro aziende, che le hanno messe da un'altra parte per poter ridurre il costo del lavoro, ma per fare prodotti magari altrettanto visivamente validi, ma che mancano di quel tocco che la manodopera italiana sapeva dare, perché era un sentimento, il sentimento trasportato nell'abbigliamento e poteva essere una cosa veramente meravigliosa. Se invece di fare quella nefasta legge che io ho denunciato come truffa sul New York Times della Reguzzoni Versace, che permette a chi lavora all'estero, produce all'estero, di targare made in Italy, prodotti che magari in una giacca c'è solo il tessuto e il filato, lei capisce che è un non senso. Una targa che non protegge più nessuno e non tutela assolutamente più. Nel mio piccolo, tutti i prodotti Luciano Barbera portano un'etichetta dove c'è scritto Entirely manufactured in Italy, completamente fatti in Italia. Vi siete autodifesi in questo modo praticamente. Non c'è altro da fare, ho lottato contro tutti, ho lottato in Confindustria, ho lottato con il Presidente del Consiglio che mi aveva promesso venga a Roma, faremo, faremo, ecco perché io dico è stato un bravo imbonitore, ci ha raccontato tante cose e poi evidentemente non ha più avuto nemmeno credibilità internazionale.